Il tuo nome, renda il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il Cielo così interno. Darci oggi il nostro pane quotidiano, che rimette a noi i nostri debiti, come noi vi ripetiamo i nostri servitori, e non ci indurre in tentazione, ma noi te lasceranno male. Ave Maria, e le mie grazie al Signore con te, tu siete eletta tra le donne, e non ci indurre in tentazione, ma noi vi ripetiamo i nostri servitori,